Assessore, oggi un incontro con una delegazione cinese per un importante investimento sul territorio, esattamente a Scanno. Di cosa si tratta? Di un'opportunità eccezionale, non soltanto per le aree interne, per Scanno, quindi per la provincia dell'Aquila, ma per l'intera regione e perché no per l'intera nazione. È un'opportunità che viene costruita da un imprenditore estero, in questo caso un cinese, che sta provando a trasformare l'occasione di un mix tra sport e natura anche in economia. È quanto mai preziosa come opportunità per un territorio, quello delle aree interne, che ha tanta fame di occasioni, di opportunità, proprio per l'indotto socio-economico che può derivare da queste iniziative e dei grandi eventi. Xterra in questo caso è il marchio di riferimento di Mr. Zhu, sarebbe l'imprenditore cinese che sta provando ad investire con forza su vari tipi di mercati, non soltanto italiani ma mondiali. Ha scelto Scanno come meta, preferita proprio perché è una meta che riesce a... a offrire sport, natura, cultura, tradizioni in un parco, quello nazionale, che è unico nel suo genere, proprio per il tipo di location che offre, proprio per il villaggio che sta provando ad immaginare. La regione non può che essere a fianco di questa iniziativa, del comune di Scanno, ma anche dei comuni di Villalago e di tutta la valle del Sagittario, perché sarà un indotto che porterà fortuna, occasioni, opportunità a tutti i livelli, anche lavorative, a tutto un ambito, in tutta la regione, ma soprattutto a un ambito quello della valle del Sagittario, che, ripeto, ha tantissimo da offrire a livello naturalistico, ma sta ancora studiando su quali infrastrutture puntare, in particolar modo, per riuscire a rendere unico nel suo genere una location che dà possibilità in uno stesso comune, per esempio Scanno, appunto, di avere un lago, quindi un ambito legato all'acqua, con un ambito montano, con impianti di risalita, con la possibilità già vista di fare manifestazioni come il triathlon, dopo che si è perso negli anni scorsi l'Iron Man a Pescara, questo triathlon in un'area interna dell'Abruzzo può essere la giusta risposta di caratura nazionale e internazionale che l'Abruzzo dà agli errori del passato. La regione sarà a fianco proprio di questa iniziativa, sarà vicina all'iniziativa pensata da Mister Zoo, proprio perché stiamo parlando di un villaggio che sarà permanente e offrirà opportunità 365 giorni l'anno, quindi manifestazioni ce ne saranno, ma ci sarà un villaggio permanente. Questo chiaramente deve essere ritenuto congruo a livello amministrativo, autorizzativo, siamo certamente in un parco, quindi non impattante a livello naturalistico, ma certamente la ricaduta è talmente positiva che va trovato assolutamente un modo ortodosso a livello amministrativo per portare avanti una idea progettuale di questo tipo. Le amministrazioni sono a fianco di questa iniziativa, chiedono con forza una vicinanza della regione che da questo punto di vista hanno coinvolto a me non soltanto per l'assessorato dello sport, ma proprio per questo tipo di delega delle aree interne, che da questo punto di vista ci dà la possibilità di guardare con interesse proprio a quelle aree che per diversi motivi sicuramente infrastrutturali e logistici sono un po' più sfortunate in termini di relazione e di tessuto su cui intervenire. Noi possiamo rendere queste aree interne meno interne proprio avallando questo tipo di iniziative che sono in questo caso, pensate, da chi non è abruzzese, da chi non è italiano in questo caso e possiamo certamente dare loro una mano e rendere tutto più agevole. Quindi c'è un interesse molto forte, abbiamo visto, ma i tempi sono lunghi oppure si sta cercando di accelerare? E' quello a cui intera il tempo e tirano da questo punto di vista proprio perché accorciare i tempi significa dare una possibilità in più alle aree interne, che per definizione hanno un rischio spopolamento, che hanno delle difficoltà proprio in termini di servizi. Se per quanto riguarda questo tipo di iniziativa noi riuscissimo ad accorciare al massimo i tempi, certamente faremmo un favore non soltanto all'imprenditore ma a tutto un ambito territoriale e alla nostra regione. Quindi certamente stiamo parlando di mesi, io voglio pensare non di anni, almeno per quanto riguarda tutto l'iter progettuale e quello autorizzativo. Per quanto possibile e rimanendo certamente, e questo lo vuole anche l'imprenditore Mr. Zou, nella legalità e nel percorso ortodosso, amministrativo che bisogna portare avanti, saremo a fianco anche nel dare una mano e nell'agevolare questi passaggi. Per quanto riguarda tutto l'imprenditore, per quanto riguarda tutti i tempi,